Per i centri antiviolenza promuovere attività di prevenzione con le giovani generazioni e quindi con i ragazzi e le ragazze, con i bambini e le bambine ma con tutta anche la società educante vuol dire richiamare alla responsabilità individuale e collettiva per produrre un cambiamento e una trasformazione dei presupposti che legittimano la violenza maschile sulle donne. Vuol dire che attraverso dei laboratori è possibile contemporaneamente destrutturare e rigenerare rappresentazioni e immaginari collettivi che includano parole con significati diversi da quelli che normalmente sono stati utilizzati o vengono utilizzati. Mi riferisco a parole importanti come il potere, il confine, il limite, il consenso, la responsabilità individuale ma anche tutto il campo delle emozioni e dei sentimenti che vengono messi in gioco all'interno di una relazione che sia affettiva o tra coetane. Grazie a tutti. Grazie a tutti.